Bene, nuova puntata di Liberamente Parliamone. Siamo o no al centro dell'attenzione? Lo scopriremo solamente andando avanti lungo il cammino della nostra vita e sintonizzandovi con le realtà locali, le emittenti locali, potrete scoprire qualcosa in più del vostro territorio. Ho lanciato un messaggio alla regia, tra le righe. Lo recepirà o non lo recepirà? Sta a voi scoprirlo. E sono quei messaggi, quelle cose che si ritrovano nelle norme. In quel caso non si lanciano i messaggi, si deve, tra le righe bisognerà trovare una soluzione. Perché la norma, la legge, non può disciplinare da A alla Z qualsiasi cosa. Ti dà l'input principe e poi chi è deputato a fare in modo che possa essere messa in pratica, a controllare, a vigilanza, la deve interpretare in maniera corretta e allo stesso modo avere un po' di elasticità. altrimenti non c'è norma che tenga. È impossibile disciplinare tutto. Ecco perché la priorità sta nel nostro senso civico. in quanto ognuno di noi deve avere quella sensibilità della sua vita in comunione con gli altri affinché si osservino le regole. Ma non tutto può essere scritto e quindi anche noi dobbiamo essere elastici e con il nostro senso civico ragionare la ragionevolezza che spesso si perde di vista. Non esiste il bianco e il nero, ci sono anche le sfumature. Adesso come faccio? Ho detto il bianco e il nero. Volevo dire un altro colore, ma ognuno dice le sue. L'importante è che ci si comprenda. E allora la regia avrà compreso quanto ho detto tra le righe? Non lo so. Ma voi avete ben capito che dal governo in giù fino al nostro sindaco non è possibile farvi entrare nella zucca, farvi entrare nella zucca di tutti noi che si usa la mascherina nei locali pubblici. C'è bisogno che venga il sindaco, il comandante della stazione dei carabinieri, il generale all'arma dei carabinieri, chi deve venire? Per ficcarci nella zucca che nei luoghi pubblici si usa la mascherina. Ho chiuso? Si usa la mascherina. Come? Devo andare a prendere il caffè con la mascherina. Abbi pazienza. Hai votato e chi hai votato è deciso che è così. Quando poi sorseggi il caffè ti toglierai la mascherina. Ma nell'ingresso, nello stare lì e nell'uscita devi indossare la mascherina. Sono delle precauzioni che il governo ha deciso di stabilire. Ora è inutile che andiamo a trovare la legge, ma io devo bere, ma io così, ma io colà, non faccio in tempo ammettere che la devo togliere. Tutte scuse che non ci stanno, non servono a nulla se non a dimostrare che vogliamo solamente evadere la legge. E quindi chi parcheggia avanti a Paschalabba, vabbè, un minuto, è il tempo di entrare alla macelleria. Oppure è il tempo di andare a prendere dal banco Matti i soldini. È il tempo di andare a citofonare a mia madre. È il tempo di... E troviamo la scusa. Per qualsiasi trasgressione è semplice trovare una motivazione. E quindi il nostro senso civico è dimostrato che in quelle occasioni in cui noi troviamo una via d'uscita alle regole è proprio basso. E così è. D'altronde, come ho detto più volte, questo dovrebbero averlo insegnato a scuola. Ma evidentemente io oso dire se è scarso, chi ha questo scarso senso civico a scuola o dormiva o è stato promosso e non doveva essere promosso. Abbiate pazienza e certamente perché indipendentemente dal saper fare il 3x3 9 e quindi dalla tabellina, indipendentemente da sapere la differenza tra in congiunzione e con l'accento, ci vuole il senso civico, ci vuole una maturità e la scuola deve dare il giudizio non solamente sul 3x3 e lei con l'accento e congiunzione, ma soprattutto sull'essere uomo, sull'essere donna, sull'essere chiamatelo come volete quella persona che viene promossa all'ulteriore gradino scolastico. Così dovrebbe essere. Certo voi direte, se c'è l'insegnante che in bicicletta va su marciapiede, è contro senso pure, è sfreccia davanti ai bar, davanti alle autoscuole e davanti agli esercizi commerciali e chi esce rischia di perdere il suo non so che cosa e allora io dico. È difficile che poi quell'insegnante potrà dare il senso civico del rispetto delle regole a quei bimbi o a quelle bimbe o chiamateli come volete che vanno in bicicletta e andranno in bicicletta, e certamente, perché anche loro vedendo il loro insegnante, la loro maestra o il loro maestro penseranno che sia corretto andare sui marciapiedi, sfricciare in bici, controsenso sui marciapiedi, incuranti delle persone che sono i pedoni e che quindi i pedoni vanno sui marciapiedi e passeggiano o escono da un'attività commerciale e dovrebbero essere in sicurezza. E quindi quegli scivoli che sono stati ideati per le donne che portano il passeggino, le donne che con il loro carrellino vanno a mercato e si spostano. Per noi, quando diventiamo vecchietti, che usiamo il bastone pian piano, abbiamo bisogno e non riusciamo ad alzare la gamba più di tanto, lo scivolo ci incoraggia a stare sul marciapiede. Ecco, non facciamo lo sforzo e sicuramente non inciampiamo salendo sul marciapiede che è un po' più alto e chi ha purtroppo perso la deambulazione ed è su una carrozzina o è elettrico o manuale, lo scivolo serve per loro, invece no, lo scarso senso civico, la bassezza del senso civico, delle persone che non rispettano queste regole stanno ad utilizzare un qualche cosa che è stato fatto per il bene comune a proprio piacimento, ossia fregandosi degli altri. Allora io dico, chi è insegnante può fregarsi degli altri? Secondo me no. E allora bene, una rorma che dica che quando io faccio dei test, quando io faccio delle verifiche o delle segnalazioni, devo aprire un fascicolo e nel momento in cui verifico che l'insegnante questo non l'ha compreso, anche se è filosofo, anche se è bravo, anche se ha preso 110 e l'ode, io lo mando a casa, lo mando a ripetizioni, perché altrimenti darà ai tanti nuovi uomini e donne, chiamateli come volete voi, chissà qual'educazione e poi daremo la colpa solo alle famiglie. Va bene, l'ho detto in altre occasioni, ma me ne sono ricordato oggi perché guardando la bici sfrecciare sul marciapiede, scusatemi, mi è venuto in mente e così come mi è venuto in mente ve lo dico, non abbiamo nessun tassativo oggi, possibile, nessuno mi dice tassativo qua, oggi sono libero di fare che voglio, finalmente anche io posso liberamente parlare senza il tassativo? Sì, è così. E allora andiamo a quanto ho messo da parte quest'oggi, ricordandovi prima di tutto che potete telefonare al 351-931-9265, che poi avete a disposizione anche l'indirizzo di posta elettronica telemaighechioccioalibero.it, ma sono al centro dell'attenzione, ma spero di sì, e poi potete allo stesso modo seguire la nostra programmazione nella pagina Facebook Redazione Telemaighe, oppure sul canale YouTube iscrivendovi su Telemaighe. Ora oggi che cosa abbiamo messo da parte per voi? Prima vi do una notizia che riguarda la speranza di vita, sì, perché nel 2020 la speranza di vita, la nascita si è ridotta di 1,2 anni a causa della pandemia, attestandosi a 82 anni. Ebbene ricordarlo e quindi vivere meglio significa campare di più e purtroppo la pandemia ha dato a tutti noi parecchi effetti negativi, ha portato conseguenze negative. Allo stesso numero telefonico al 351-931-9265 potete inviare, oltre che messaggi scritti, anche immagini e filmati. Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, ha detto che è indispensabile la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, sradicare accordi e prassi elusive. A Firenze il dibattito sul sistema elettorale dei componenti del Consiglio Superiore deve ormai concludersi con una riforma che sappia sradicare accordi e prassi elusive e di norme, che posti a tutela della competizione elettorale, sono state talvolta utilizzate per aggirare le finalità della legge. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per il decennale della Scuola Superiore di Magistratura a Scandicci, Firenze. Indispensabile quindi che la riforma venga al più presto realizzata, tenendo conto dell'appuntamento ineludibile, quale è questo appuntamento ineludibile? Del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura. Non si può accettare il rischio di doverne indire le elezioni con vecchie regole e con sistemi ritenuti da ogni parte come insostenibili. Ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi vedete, sono state talvolta utilizzate per aggirare le finalità della legge, quelle norme posti a tutela della competizione elettorale. E quindi ragazzi, ragazzi, sta lì, sta lì alla radice. Per tanti anni c'è chi, come continuiamo a fare noi tutti cittadini, annaggia, ho dimenticato la gravata oggi, ecco me, di solito me la metto. Dicevo, sta a noi cittadini, che fare? Migliorarci invece, non solo noi, ma anche quelli più bravi di noi. Che fanno? E che fanno? Talvolta utilizzano atteggiamenti, situazioni per aggirare le finalità della legge. E va bene, quindi siamo tutti esseri umani a quanto pare, indipendentemente dalla casacca che si indossi, dal titolo nobiliare che si ha nel proprio curriculum. Che fa la RAI? e che ci interessa. A noi che interessa? Noi stiamo su Telemaiche, piccolissima emittente privata, ci dobbiamo interessare. La grandissima RAI? Non me lo sto chiedendo io, se lo chiede Michele Anzaldi. Voi direte, ma Michele Anzaldi non sa che fare? Che ne so io. Se l'è chiesto, si è fatto la domanda, quale? Che fa la RAI per la giornata contro la violenza sulle donne? Ecco, evidentemente Michele Anzaldi ritiene che la TV di Stato, la televisione pubblica in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne debba fare un qualche cosa. Vediamo cosa pensa Michele Anzaldi. Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Che cosa fa e farà la RAI su questa delicata tematica? Il servizio pubblico sta veramente assolvendo al suo ruolo, previsto dal contratto di servizio nel combattere la violenza di genere? È accettabile che l'unica iniziativa televisiva di cui siamo a conoscenza per questa ricorrenza sia l'intervista di Franca Liosini a Rudy, condannato per concorsi in omicidio e violenza sessuale contro Meredith, il delitto di Perugia? Si può combattere la violenza sulle donne intervistando un condannato per violenza mortale a una donna? Lo scorso 17 settembre ho inviato una lettera alla presidenza della RAI, scrive Michele Anzaldi, a Marinella Soldi, di amministratore delegato, a Carlo Fortes, per chiedere al servizio pubblico di avere un ruolo di avanguardia contro la grave piaga dei femminicidi e della violenza sulle donne. Una lettera pubblicata proprio su half post, però Michele Anzaldi, per pazienza, tutti questi termini inglesi, Michele Anzaldi, mi piace cosa scrivi, il contenuto, l'obiettivo, ma tutti questi termini inglesi proprio, o liberamente parliamo, io non li voglio usare i termini inglesi, e che capperi? Ma, speriamo che continuando non me li ritrovi tra i piedi. Allora, dicevamo, su questa lettera è stata pubblicata, nella quale chiedevo di valutare la creazione di una trasmissione dedicata esclusivamente alla tutela delle donne che hanno subito violenza e potrebbero subirne ancora. Un programma sul modello di chi l'ha visto. Striscia la notizia, le iene, e sì, Michele Anzaldi, vedi quanta pubblicità mi stai facendo fare a queste trasmissioni, tu Michele Anzaldi? Metti ogni tanto un programma di qualche televisione locale, che capperi in questa lettera, che esistiamo anche noi, per accendere riflettori su casi emblematici di violenza, per creare una sorta di cintura di sicurezza mediatica intorno alle vittime, uno spazio settimanale fisso, proprio come strumento di denuncia e protezione per le donne che si sentono minacciate dalla violenza maschile. Anche perché Michele Anzaldi, lo posso dire con orgoglio, siamo stati i primi a parlare con la psicologa qui dei problemi della pandemia e di quanto sarebbe successo ai danni delle donne, mentre voi nei network parlavate della mascherina e del vaccino e di questo e di quest'altro. Noi andavamo già in profondità. E certo. Va bene. Allora, a seguito di quella comunicazione, un altro dirigente RAI mi ha contattato per dirmi, poi abbiamo ad acqua viva Leonardo, Leonardo che ci tiene tanto a questo argomento. Beh, se chiama oggi Leonardo, spero di poter approfondire anche l'iniziativa che sta organizzando. Quindi dice Michele Anzaldi, a seguito di quella comunicazione, un altro dirigente RAI mi ha contattato per dirmi che l'azienda vedeva con interesse quell'idea. Lo stesso mi è stato confermato per iscritto in risposta alla mia lettera. E poi cosa è stato fatto? Cosa sta facendo davvero di concreto la RAI per proteggere almeno mediaticamente le donne che ogni giorno subiscono violenza? Dopo il deludente esito delle nomine dei telegiornali, almeno su questo la nuova RAI di Draghi saprà dare una svolta rispetto al passato? Che vi devo dire? Lo ha scritto Michele Anzaldi, vedremo se quanto lui ha segnalato servirà a qualcosa. Intanto l'OMS, che fa l'OMS? Mica parla solo di vaccini, di dati statistici. Ce l'abbiamo? Che fa l'OMS? Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbassa gli inquinanti dell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida sulla qualità dell'aria, basato su una revisione sistematica delle prove accumulate sui danni dell'inquinamento per la salute umana, che negli ultimi 15 anni sono molto aumentate. Per questo motivo l'OMS, sostenuta da centinaia di società scientifiche in tutto il mondo, ha proposto un abbassamento dei livelli di particolato fine e inalabile, biossido di azoto e monossido di carbonio. Questo ce lo ricorda altro consumo. Ma io dico, l'OMS sì, ma vi rendete conto che in ogni comune e con questa norma che avete fatto dei bonus, ha state facendo... quanto avevamo recuperato? Con le auto ferme nei box durante il lockdown, quindi il minore inquinamento e la natura che avanzava anche sulle strade e sull'asfalto dove gli uccellini, gli animali avevano trasformato le strade, non più percorse da auto e mezzi di vario genere, in un prolungamento dei terreni e vedevi tutti questi uccelli, tutta questa natura che recuperava quanto noi avevamo asfaltato. Dopo aver guadagnato in ambiente, in salubrità, grazie al fermo di queste nostre macchine, di queste tutte apparecchiature inquinanti, abbiamo fatto il Liberi Tutti e con il Liberi Tutti si inguina a destra e a sinistra, con buona pace dell'OMS che può abbassare tutti i valori che vuoi, che vuoi, cara OMS. Tu puoi abbassare i livelli di particolato, di biossido di azodo e monossido di carbonio, puoi fare tutto quello che vuoi, ma ti sfido a venire ad Acquaviva delle Fonti e a renderti conto che come giri l'angolo ti trovi una bettoniera, poi giri l'altro angolo in un camion che sta caricando rifiuti eccetera eccetera, il traffico è bloccato perché noi svuotiamo i mastelli nel nostro comune come, cioè è una raccolta differenziata, come dire, nobile, aristocratica, perché anziché farla alle sei del mattino, alle sei e mezzo del mattino, alle sette del mattino, alle cinque del mattino, alle cinque e mezzo, quando non si creano problemi al traffico, ai cittadini, quando la strada è libera e si può fermare il mezzo che fa la raccolta, lo svuotamento di questi infernali bidoncini, che poi il bidoncino, tutti insieme questi bidoncini hanno fatto un gran bidone per noi utenti, in particolare di Acquaviva delle Fonti, perché sappiamo bene che questa raccolta, che questo bando, lo ha detto la magistratura, è stato un bidone per noi, questo è chiaro, ma lo avremmo dovuto capire sin da quando la Kodakons ve lo diceva anni fa, prima ancora che partisse, che ci stavano facendo un gran bidone, non c'era bisogno di aspettare le sentenze della magistratura per capire che i tanti piccoli bidoncini messi insieme fanno un grande bidone, è certo, un po' di elasticità, invece in molti hanno pensato che quel bidoncino per la raccolta dei nostri rifiuti avrebbe salvato il nostro ambiente e ci avrebbe portato benefici, invece lo abbiamo scoperto con il passare del tempo, per chi era un po' disattento, noi lo sapevamo già prima, che invece era un grande bidone e allora dicevo, si vanno a raccolta alle 8, alle 8 e mezza, alle 9, alle 9 e mezza, alle 10, è una fascia oraria elasticissima, cioè si può fare quello che si vuole e allora si crea un ingorgo, si ferma il traffico e le auto, ta 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 ta, e voglia l'OMS a dire che abbiamo abbassato i livelli di particolato, perché in particolare, cara OMS e cari tutti amministratori della cosa pubblica, noi stiamo messi male, perché se non c'è un'istituzione o comunale o regionale o della città metropolitana che intervenga per dire, non solo per sanzionare il cittadino che magari mette il cartone anziché mette la plastica e mette la plastica a posto del cartone, il cartone a posto indifferenziato, l'organico a posto indifferenziato e non so che altro combini, quindi la striscia, l'adesivo, rifiuto non conforme e rimane lì restituito al mittente, bisogna anche sanzionare e fare in modo che il servizio non crei danno alla comunità e di danni ne sta facendo assai, specialmente in tema ambientale, quando si scaricano, si raccolgono queste buste di organico e in particolare a proposito di percolato, ce lo ritroviamo in scia sui marciapiedi e lungo tutto il percorso che faranno queste buste fino a raggiungere il mezzo del trasporto e allora le istituzioni non vedono, chi deve indagare non se ne accorge, chi deve intervenire e sanzionare sta forse a dormire perché non è ancora orario di servizio e quindi noi ci leggiamo perché dobbiamo fare informazione che cosa? Che l'OMS abbassa gli inquinanti dell'aria e invece noi ce l'abbiamo a disposizione tra una bettoniera e un ingorgo stradale ad Acquaviva delle Fonti tutti i giorni. Se poi c'è un amministratore della cosa pubblica di Acquaviva delle Fonti o consigliere di maggioranza o consigliere di minoranza o sindaco giunta che volesse con me fare una passeggiata a telecamere accese, la facciamo e così poi la mandiamo in onda a verificare che quanto io sto dicendo è vero o falso. Sarebbe meglio certo segnalato da voi così aumenterebbero le sollecitazioni e le istituzioni ma seppur abbiate a disposizione le modalità per farlo evidentemente non volete e non vorrete in futuro esporvi ma così va avanti l'Italia. Sì perché noi siamo bravi ad aspettare diciamo il Garibaldi di turno perché noi non siamo capaci nemmeno quattro gatti da prendere un'iniziativa. Abbiamo bisogno di un come si dice aiutatemi un condottiero. Un condottiero un condottiero. Voi direte perché hai alzato la testa? Mi hanno segnavato una cosa importante quel del condottiero. Non mi veniva in mente. Noi abbiamo le lavagne luminose dietro lì e allora quando c'è qualcosa che non va dalla regia tecnicamente dalla redazione nei contenuti scrivono condottiero tac si accende la lavagnetta luminosa io leggo condottiero. Insomma per capirci non è tutta farina del mio sacco. Insomma è così funziona. E certo altrimenti non ci sarebbe una redazione non ci sarebbe un gruppo di persone che lavora in un emittente o piccolo o grande che sia. Super Green Pass. Il giurista Ugo Mattei. Che cosa dice questo adesso? Se un giurista dirà qualcosa di importante. Leggiamolo insieme. Si continua a non parlare di obbligo vaccinale perché non si vogliono prendere le responsabilità politiche. Le conseguenze di morbilità del vaccino preoccupano gran parte di chi ha deciso di non vaccinarsi. In molti temono di più le conseguenze del vaccino che le conseguenze eventuali del Covid. Questa è l'osservazione del giurista. Voi sapete che la nostra programmazione fa riferimento ad appuntamenti, in particolare contenuti che siano legati alla cultura, alla solidarietà, alla storia, al nostro patrimonio. Insomma, questi sono i nostri contenuti. E quindi mi fa piacere da oggi, nel momento in cui ne abbiamo la possibilità, collegarci con quanto produce SAT 2000, a cui noi in molte occasioni facciamo riferimento, la TV dei Vescovi, per proporvi la sintesi, come loro ben sanno fare a livello nazionale, così noi facciamo gli approfondimenti e loro fanno le sintesi di quanto accade nella nostra Italia. Buon pomeriggio, è in arrivo la stretta per contenere la quarta ondata del Covid. Le misure dovrebbero arrivare dal Consiglio dei Ministri che avrà luogo tra mezz'ora. Il Super Green Pass sarà valido solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid ed entrerà in vigore già dalla zona bianca. In zona gialla o arancione non scatteranno chiusure e restrizioni generalizzate, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del certificato verde. Tutto questo a partire dal 6 dicembre. Intanto i governatori sono in pressing sul governo per chiedere misure più stringenti, a partire dalle mascherine all'aperto, soprattutto nei luoghi affollati, un'ipotesi che dovrebbe riguardare tutta Italia, indipendentemente dai colori delle singole regioni. La cronaca a Milano perquisita la casa di un ragazzo 19enne ideatore dei cortei no pass in Lombardia. Il giovane ha ammesso di aver scaricato mille file dalla rete contenenti green pass intestati ad altre tante persone e averli distribuiti gratuitamente via Telegram. Adesso è indagato dalla Procura per istigazione a delinquere. Sciopero dei tassisti, auto ferme in tutta Italia dalle 8 alle 22. A Roma un lungo corteo ha attraversato il centro per protestare contro il DDL e concorrenza colpevole, secondo i sindacati di categoria, di deregolamentare ulteriormente un settore già provato. Secondo gli organizzatori hanno partecipato almeno 3.000 lavoratori. Le vicende registrate negli ultimi tempi nell'ambito della magistratura non possono e non devono indebolire l'esercizio della funzione giustizia essenziale per la coesione di una comunità. Per questo, ha sottolineato il Presidente Mattarella parlando alla Scuola Superiore della Magistratura Scandicci, è necessario valorizzare l'imparzialità e l'irreprensibilità delle condotte individuali rifugendo dall'autoreferenzialità e dal protagonismo. All'udienza generale Francesco prosegue la sua riflessione sulla figura di San Giuseppe, sposo di Maria, e gli dedica una preghiera. È lui che continua a proteggere la Chiesa, modello di chi sa prendersi cura degli altri, dice Francesco. Dopo la sconfitta della Juventus a Londra ieri sera e il pareggio dell'Atalanta, oggi in Champions scendono in campo Milan e Inter rispettivamente contro l'Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk, mentre in Europa League questo pomeriggio alle 16.30 il Napoli impegnato a Mosca contro lo Spartak. Dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Non la trovo, non la trovo. Dove sta? Dove sta? Bisogna averne tanta, non la trovo più. Non la trovo, la pazienza, non la trovo. Non c'è che vi devo dire. Andiamo avanti. Allora, secolo d'Italia, cultura, Savoia. Sarà una chicca? Nemmeno gli occhiali ho cambiato oggi. No, sono quelli buoni. Pensavo fosse gli occhiali grandi. In televisione gli occhiali sono piccoli e si vedono grandi. Oh, secolo d'Italia, cultura, Savoia. Il mistero del tesoro reale depositato nei forzieri di Banca Italia. Non si sa che appartenga alla faccia. C'abbiamo il tesoro noi. L'anno del 1946, il 5 giugno alle ore 17, anche l'ora, fantastico, nei locali della Banca d'Italia, via nazionale numero 91, si è presentato il signor avvocato Falcone Lucifero. Nella sua qualità di reggente, il ministero della Real Casa, con l'assistenza del grande ufficiale Livio Annesi, direttore capo della ragioneria del ministero suddetto. L'avvocato Falcone Lucifero dichiara di aver ricevuto in carico, da sua maestà, Re Umberto II, di affidare in custodia alla Cassa Centrale della Banca d'Italia, per essere tenuti a disposizione di chi di diritto gli oggetti preziosi che rappresentano le cosiddette gioie di dotazione della Corona del Regno, che risultano descritti nell'inventario tenuto presso il ministero della Real Casa e che qui di seguito si trascrivono. Così si legge in un documento in carta da bollo da 12 lire, redatto tre giorni dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che portò alla proclamazione della Repubblica, in cui il ministro della Real Casa, su ordine del re Umberto II, consegnò al governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, la preziosa Cassa con il tesoro della Corona. Mai esposto al pubblico. Da quella data sono passati 75 anni ed è da allora che i gioielli dei Savoia, custoditi in un cofanetto in pelle a tre piani e protetto da 11 sigilli, 5 del ministero della Real Casa e 6 della Banca d'Italia, sono rimasti sepolti nel cavo di via nazionale. Milena Gabanelli firma un'inchiesta sul Corriere della Sera, da allora non sono mai stati esposti in pubblico e da quel 5 giugno del 1946 è accaduto soltanto una volta, poco prima della morte di re Umberto, che il prezioso scrigno sia stato riaperto. E' successo nel 1976 per ordine della Procura di Roma, dopo che il giornale, il borghese, aveva ipotizzato la scomparsa di alcuni dei famosi preziosi, ma una volta che si accertò che il tesoro era intatto, sulla vicenda torno a calare il sipario. Tesoro dei Savoia, i pezzi più importanti, tra i pezzi più importanti, rinchiusi nel cofanetto di pelle nera, foderato di velluto azzurro Savoia, catalogati il 5 giugno del 1946 da Lucifero, con l'assistenza di Davide Ventrella, allora segretario del sindacato Orafi, figurano un grande diadema a 11 volute di brillanti, attraversato da un filo di perle orientali che negli spazi inferiori ha perle incastonate, in quelle superiori gocce di brillanti incastonati, il tutto per un totale di 11 perle a goccia di grani 720, 64 perle tonde del peso di grani 975, 1040 brillanti del peso di grani 1167, si tratta della famosa tiara che appare in tutti i ritratti ufficiali della regina Margherita e della regina Elena, 6732 diamanti e 2000 perle, come risulta dalla perizia svolta per conto della procura di Roma, i soli brillanti sono 6732, a cui si aggiungono 2000 perle di diverse misure montate su monili di grande valore artistico, insomma a chi appartiene? ecco perché, sì, è inutile andare avanti, ma a noi italiani può interessare, lo sappiamo bene, a noi interessa alla fine, che sta per me? Così siamo noi, che sta per me? Cioè Gino ci sta raccontando tutta la storia, ma a me? Sì, le perle, i brillanti, noi che ci andiamo con questa storia e quindi vediamo a chi appartiene? Ecco vediamo, l'interrogativo che incombe è a chi di fatto appartenga a questo tesoro di Savoia. Punto chiave, secondo numerosi giuristi è il documento di deposito laddove si parla appunto di Gio in dotazione della corona del regno. Un passaggio giusto, questo che secondo gli esperti toglierebbe ogni dubbio circa l'appartenenza allo stato del tesoro. I beni che componevano la dotazione della corona erano infatti annoverati dalla legislazione del regno nella categoria dei beni non disponibili dello stato, appartenenti quindi allo stato e assegnati al re per l'adempimento delle sue funzioni, cioè posti al servizio dell'ufficio del sovrano, non della sua persona. Una distinzione prevista dallo statuto albertino e da due successive norme, una del 1850 e una del 1905. Al di là dunque anche del dettato della tredicesima disposizione della Costituzione repubblicana, ormai cancellata, che oltre a prescrivere l'esilio per il sovrano e i suoi discendenti, avocava allo stato tutti i loro beni esistenti sul territorio nazionale. Quindi, è nostro. E voi direte, perché non l'abbiamo mai visto? Che vi devo dire? Chissà quante cose sono nostre e non le vediamo. Così funziona. È dello stato. E qualche volta, re di tutto di più, facci vedere. Io sono curioso adesso, dopo aver sentito questa notizia pubblicata da chi? Dal secolo. Chi è che l'ha pubblicata? Dal secolo d'Italia, nella pagina riservata alla cultura, debito pubblico troppo alto, l'Unione Europea, l'Italia, ridurre la spesa corrente. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Iniziamo con i problemi che avrà l'Italia, perché i miliardi arriveranno, ma per avere miliardi dobbiamo fare delle cose. Vediamo, a proposito del debito pubblico, che cosa abbiamo garantito per poter ricevere? Ma lo stiamo facendo? O c'è qualcosa che non va? Vediamo. La bozza della legge di bilancio 2022, inviata dall'Italia a Bruxelles il 20 ottobre scorso, è stata promossa dalla Commissione Europea, che tuttavia, nel suo giudizio, ha invitato il Paese a porsi l'obiettivo di ridurre l'aumento della spesa pubblica corrente, tenuto conto dell'alto debito pubblico. L'Italia non prevede di limitare in misura sufficiente l'aumento della spesa corrente finanziata con risorse nazionali, per contribuire al perseguimento di una politica di bilancio prudente. La Commissione invita l'Italia a prendere le misure necessarie all'interno del processo di bilancio per ridurla. E quindi, il patto di stabilità sospeso, che significa? Non erano previste osservazioni quantitative, ma solo qualitative. Il patto di stabilità è sospeso dal 2020 e nonostante le incertezze dovute anche al Covid, è probabile che torni effettivamente in vigore nel 2023, come ha detto il Vice Presidente della Commissione dell'Unione Europea. I tempi? Alla domanda se la Commissione si aspetti un contenimento della spesa già nella manovra economica per il 2022, ha risposto il Commissario dell'Unione Europea all'economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa. È abbastanza chiaro che non stiamo chiedendo specifiche correzioni, abbiamo solo sollevato l'attenzione sul problema, su qualcosa che il Governo ha intenzione di fronteggiare, come e quando sarà una decisione italiana. L'Italia è in forma, sta affrontando bene la campagna di vaccinazione, ha buone cifre di crescita, ha aggiunto il Commissario. Nonostante ciò abbiamo parlato del discorso delle spese correnti, lo facciamo già nelle raccomandazioni di giugno, ma questo è un tema importante per chi ha un debito alto e quindi il nostro debito pubblico è troppo alto, bisogna ridurre la spesa corrente. E come si fa a ridurre la spesa corrente? A ridurre il debito pubblico se Salvini chiede miliardi da una parte, il Partito Democratico le chiede all'altra, i sindacati da un'altra parte angoscia, ognuno chiede miliardi, chi da una parte chiede all'altra e quindi alla fine dove erano previsti dei tagli, dove erano previste le risorse per diminuire il debito pubblico, serviranno a tenere calmi e tranquilli questi rappresentanti della maggioranza. Ecco, ma e dall'Europa ci ricordo che il nostro debito pubblico è alto. Super Green Pass, stretta sui no-vax, ma è guerra nella maggioranza su vaccini e zone rosse. Cosa ci dice il secolo d'Italia? Che sono in arrivo delle misure, questo lo poteva scrivere anche il bambino all'elementare, perché vai a comprare il giornale, vai al bar, mentre cammini per strada passano i bambini, che ha detto Draghi, che ha detto Draghi, anche loro sanno che c'è questi consigli eministi che stanno lavorando, che stanno facendo, qui stanno arrivando le misure, per cui le misure sono in arrivo, magari quando noi avremo chiuso questa trasmissione o mentre noi stiamo dicendo che sono in arrivo, sono già arrivate e così funziona. Purtroppo così funziona. Sono in cantiere e quindi arrivano da un momento all'altro. A quanto apprende l'ADN Kronos da fonti presenti alla cabina di regia tra il Premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza, nel corso della riunione sarebbe prevalza la decisione di una stretta sui no-vax già in zona bianca, aprendo le attività ricreative solo a colore in possesso del cosiddetto Super Green Pass, ovvero per chi è vaccinato o guarito. La stretta dunque non dovrebbe arrivare solo dove salgono i contagi e le situazioni negli ospedali sono più critiche, ovvero dall'area gialla a salire, ma dappertutto e senza distinzioni di sorta. Per accedere alle attività ricreative il vaccino, dunque il Super Green Pass sarà necessario per accedere alle attività ricreative. Col solo tampone si potrà andare al lavoro, lockdown circoscritti in situazioni particolarmente critiche, potranno inoltre essere decisi localmente dai singoli amministratori, riferiscono fonti presenti all'incontro. Il Super Green Pass verrà richiesto anche dalle strutture alberghiere. Ai turisti che soggiornano verrà dunque chiesto di mostrare il passaporto vaccinale, misura che finora non era prevista. Non dovrebbe arrivare alcuna stretta sull'uso di mascherine. L'obbligo di tenerli al chiuso resta, mentre si dovrebbe restare liberi di non indossarli all'aperto. Resta naturalmente l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalla zona gialla in su, come previsto sinora. Sì, a me piace che ci siano dei nostri rappresentanti che sono impegnati in questo, ma il problema è che voi scrivete, legiferate, decretate, l'obbligo di tenerli al chiuso resta, è sbagliato. Per piacere, dobbiamo essere corretti, altrimenti potrebbe diventare una fake legge, una fake, un fake decreto. La mia naturalmente è una provocazione, attenzione, liberamente mi permetto di fare un pizzico di ironia. In che senso? Non può iscriversi in una norma al chiuso resta, perché al chiuso difficilmente l'abbiamo vista applicata. Non so se è chiaro. Uno può dire resta con me, amico resta con me, se l'amico c'è, ma io posso dire resta con me al fantasma. È sbagliato. Il fantasma non può restare con me, perché non c'è mai stato, come la mascherina. Quindi se nei bar, nei ristoranti, dovunque si vada, nei luoghi pubblici, sì, ci sono chi, c'è gente che applica, ma in molti, in tanti o in pochi non lo fanno, non si può dire resta. Secondo me non si può dire ho chiuso resta. Avrebbero dovuto scrivere dove c'era, resterà. Dove non c'era non potremo far nulla, perché se non siamo stati capaci fino ad oggi di fare in modo che dove non c'era ci fosse, perché dovremmo esserlo nei prossimi giorni, se non mettiamo a disposizione più poliziotti, più vigili urbani, più carabinieri, più finanzieri, più eccetera, 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 non so se sono chiaro. Sono chiaro? O devo ripetere l'imperfetto, passato, presente, che cosa devo fare? E così liberamente esprimiamoci e parliamo. Quindi funziona così. La mascherina, dove continuavano a non indossarla, senza che chi è deputato a dire se vuoi entrare qui devi indossarla, continueranno a non indossarla. Questo è poco ma sicuro. Se non ci sarà un organo che entrerà, sanzionerà chi dovrebbe dire indossa la mascherina e chi va senza mascherina. Voi direte no, è un peccato farlo a sanzione. Come è un peccato farlo a sanzione? Abbiate pazienza. Il peccato e il peccatore sono quei soggetti che non rispettano la norma, non chi deve fare il suo dovere facendo la sanzione, visto che pure quando andiamo al bagno, senza televisore, senza telefonino, senza tablet, si sentono le voci. Bisogna fare prevenzione, attento al Covid, devi indossare la mascherina. Cioè pur nel bagno, quando ti tiro lo sciacquone, il rumore non è il rumore dell'acqua, non c'è più il rumore dell'acqua nello sciacquone, c'è lo slogan, indossa la mascherina, lavati le mani. Insomma, pur lo sciacquone ti dice questo, quindi non è che ci può essere qualcuno che non sa che entrando in un bar, entrando in una pizzeria, entrando in un ristorante, in un centro commerciale, in un esercizio commerciale, in un ufficio pubblico, al chiuso, eccetera, deve indossare la mascherina. Lo sanno tutti, quindi tu vai, gli fai la sanzione all'esercente e a chi non indossa la mascherina. Gli dai il verbale e arrivederci, non c'è altro da fare, perché al chiuso resta dove c'è stato, in poche occasioni, o in molte, lo stabilirà la storia di chi qualcuno, di quel qualcuno che un domani vorrà scrivere un libro. Russia abbaia e non morde e fa affari, perché c'è gente che non fa affari. Voi conoscete qualcuno che non è organizzato, che non organizza la sua attività, la sua vita per fare affari, al giorno d'oggi, dove voi, sistema internazionale, ci avete insegnato, educati già dall'asilo, appena nati, che bisogna vivere per fare gli affari. Quindi io questo titolo non l'avrei scritto, avrei detto, la Russia abbaia e non morde come fanno tutti e fanno affari come fanno tutti, perché sembrerebbe come se fosse solo la Russia a fare affari, come se l'America non fa affari, la Francia non fa affari, l'Inghilterra non fa affari, l'Italia non fa affari, nessuno fa affari, solo la Russia. Vabbè, lasciamo stare. Abbaia non morde e fa affari, i giochi di guerra di Putin, sono ormai quasi 120 mila i soldati russi ammassati alla frontiera con l'Ucraina, troppi per una normale esercitazione militare e al tempo stesso troppo visibili perché non destino allarme a Washington e nel cuore della Nato, il medesimo allarme che suscitano i frequenti passaggi dei bombardieri di Mosca lungo il confine con la Polonia, ed è in perfetto stile sovietico quello cui Vladimir Putin è anagraficamente abbezzo, la smentita categorica ma ambigua con cui il Cremlino ha dichiarato di aver intenzioni di attaccare l'Ucraina, un cane che abbaia e che non morderà, è opinione comune. Ma vabbè, così hanno scritto e così vi leggo. Sky, come ha fatto l'OMS e vi ho letto prima, si preoccupa della nostra salute e del nostro benessere e certamente, perché se non ci sono i cittadini, i telespettatori che seguono Telemaic, Telemaic a che serve? Quindi magari i nostri cittadini, i nostri telespettatori di Telemaic devono stare in salute, ecco perché noi ci preoccupiamo, mi raccomando la prevenzione perché voi siete numerosi e questo numero deve aumentare, non deve diminuire. Sai cosa fa Sky? Dice non dovete diminuire, quindi mi raccomando alla vostra salute e al vostro benessere e quindi che cosa fanno? Ci informano sul ritmo sonno-veglia, scoperto il gene che lo rende regolare. Vediamo di che cosa si tratta, speriamo che non vi siano termini inglesi, tutti i termini inglesi io non li leggo, abdico, si chiama Tango 10, ci sono i termini inglesi ed è stato scoperto da un gruppo di ricercatori, non vi dico di dove perché è in inglese, quindi abdico, nel corso di uno studio condotto sui moscerini della frutta, fantastico, quindi mentre studiavano i moscerini della frutta hanno scoperto il Tango 10, il ritmo circadiano e l'orologio interno del corpo umano che sulla base delle 24 ore regola l'alternarsi del sonno e della veglia e governa il metabolismo. Eventuali malfunzionamenti di questo meccanismo possono provocare dei disturbi del sonno o varie patologie, conoscere i geni che lo regolano è quindi essenziale per capire come affrontare nel migliore dei modi una vasta gamma di problemi. Al momento restano ancora molti punti da chiarire sul ritmo circadiano, ma una recente scoperta dell'università americana che non vi dico di cui non vi faccio il nome perché abdico potrebbe portare a dei decisivi passi avanti. Un gruppo di ricercatori infatti ha identificato un nuovo gene chiamato Tango 10, essenziale per la regolazione dei ritmi quotidiani e siamo contentissimi, ma fate presto, così cerchiamo di dormire meglio, perché se uno dorme bene, faccio il tango o il waltzer o il lento, non lo sappiamo, durante il sonno, se uno dorme bene si alza bello con la voglia di mettere il piedino sul pavimento e correre al lavoro, se pensionato di correre comunque di muoversi, se invece non c'è il tango 10, non c'è il waltzer 3, non c'è il rock and roll, qui si dorme male, quindi meno male che hanno pezzicato il tango 10 e ci diranno poi come fare per risolvere il problema. Ecco, un'agenzia italiana che si chiama Dire, agenzia di informazione, che cosa ci dice? Che a Bologna i numeri sono da zona gialla, 200 casi al giorno, LR con T resta sopra l'1, il tasso di incidenza è di oltre 127 casi su 100 mila abitanti e inizio novembre era di 75. Con un indice di R contistabile sopra l'1 da giorni e un tasso di incidenza di oltre 127 casi su 100 mila abitanti, i numeri della pandemia a Bologna sarebbero già da zona gialla secondo i vecchi criteri. Il quadro che emerge dai dati aggiornati in possesso della Ausl di Bologna è presentati oggi alle commissioni sanità e scuola del comune. Alla settimana scorsa il tasso di incidenza dei casi positivi in area metropolitana è di 127,3 su 100 mila abitanti. La città di Bologna è 118,9 su 100 mila e il tasso è in crescita, segnale il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon. Secondo le vecchie regole saremmo in zona bianca fino a 50 casi. Ad oggi, continua Bordon, abbiamo circa 200 contagi al giorno in media. Il virus viaggia in maniera diversa rispetto a prima e c'è forte correlazione con il numero di persone vaccinate e non vaccinate. Questo forte incremento è da inizio novembre, perché fino alla settimana scorsa, aggiunge Paola Perrone del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl in Bologna, si contavano 1991 casi attivi di cui il 90,4% in isolamento, l'8,6% di coverati, eccetera, eccetera. La settimana scorsa si sono contati 11 morti. Nelle prime settimane di novembre, continua Perrone, si è registrato un incremento dei casi del 72,5%. Quindi un aumento importante da settimane. La curva mostra da settimane una tendenza importante all'aumento, segnala la dirigente. Anche il numero dei tamponi in aumento e l'indice R-T è sopra l'1 da giorni. Secondo l'azienda sanitaria, la causa di questo aumento dei contagi è un generale abbassamento della guardia. Annaggia! Avete visto? Perché il virus ci frega. E allora ci crediamo al vaccino o non ci crediamo? Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Chi si vaccina e chi no. Siamo liberi? Sì. Non c'è l'obbligo? Ok, ma vogliamo mettere la mascherina? Vogliamo lavarci le mani? Vogliamo mantenere la distanza di sicurezza? Vogliamo avere queste precauzioni? Visto che, indipendentemente dal fatto di volersi o meno vaccinare, una cosa è certa, il virus c'è, tutto possiamo dire, tranne che il virus sia una scia chimica. Il virus esiste e lo ritroviamo negli ospedali, nelle rianimazioni, in quelle bare che ci hanno fatto vedere e dei nostri amici che abbiamo purtroppo nemmeno potuto salutare e tanti in ogni piccolo o grande città della nostra Italia c'è chi è morto di Covid. Per cui non scherziamo, indipendentemente se vogliamo o meno credere al vaccino, il Covid esiste. Per cui, quantomeno, siamo qualcosa? Accorti. Perché, come dicono a Bologna, l'aumento dei contagi è un generale abbassamento della guardia. Voi direte, ma che cosa ci racconti di Bologna? 630 chilometri dobbiamo fare, quanti sono? 600 chilometri? Ma da Bologna, stai a pensare a Bologna? Parlaci di Cerignola, parlaci di Cassano, parlaci di Gioio, ma che significa? Che sono 600 chilometri? Una botta di vento, una botta di vento sono 600 chilometri, con l'aereo una botta di vento, di ala, sono 600 chilometri. E voi riuscite a controllare chi da Bologna viene da Acquaviva, chi da Bologna viene a San Michele, chi da Bologna viene a Bari? Con l'auto? Riuscite a controllare? Con i bus? Riuscite a controllarlo? Con l'autostop? Riuscite a controllarlo? Quindi, per piacere. Sono una botta di vento. E quanto succede a nord, a sud, a est e a ovest della nostra porta di casa, ci deve invece servire a migliorare le nostre difese. Come? Dobbiamo sempre essere accorti, non abbassiamo la guardia. Meteo, o veniamo a una cosa che interessa a tutti, le previsioni. Partiamo quindi da Trento e Bolzano. No, non vi dirò le previsioni di Trento e Bolzano, in questo caso mi limiterò a dirvi quelle del nostro sud, però purtroppo dobbiamo dire che ci sembrano uguali dappertutto, nel senso che il 25 novembre, e domani, non è che per sbaglio delle previsioni di ieri, il maltempo si abbatte su tutta l'Italia, scrivono in queste previsioni. Con piogge e nubi fragi che bagneranno la penisola da nord a sud, scende la neve sulle alture a quota sempre più basse. Si va dagli 800 metri sulle Alpi occidentali ai 1600 metri sugli Appennini centrali. Al nord i rovesci interesseranno particolarmente la Liguria, mentre al sud colpiranno soprattutto Calabria, Puglia e Sicilia, dove c'è il rischio di trombe d'aria. E mannaggia, quindi le previsioni non sono per niente buone. Responsabile del ritorno del brutto tempo è una perturbazione atlantica che a ridosso delle Baleari, insomma, la botte di vento. Cioè quella sta lì e domani si troverà da queste parti. Come il virus. Non scherziamo. Io scherzo, ma non scherziamo. Ieri c'era il sole, magari, dopo cinque minuti piove. Così è, cos'è il virus. Facciamo attenzione. Quindi questa perturbazione atlantica che a ridosso delle Baleari è alimentata da venti freddi in arrivo dal nord Europa. Vediamo le previsioni che ci riguardano un po' più da vicino. Quindi del sud Italia. Tempo instabile, piogge diffusi anche al sud. Poi magari domani splenderà il sole. Non lo so perché qualche volta capita. Ma ci farà piacere che queste previsioni che io vi sto leggendo domani non risulteranno diciamo reali. Ci farà piacere vedere il sole. Ma comunque io ve le leggo perché è bene sapere che domani servirà l'ombrello. Quindi usciamo con l'ombrello. Tempo instabile, piogge diffusi anche al sud. Contemporali molto forti su tutte le regioni, eccetto la Basilicata. Ah, eh, ci fa piacere. Possibili, ci fa piacere nel senso che la Basilicata dovrebbe, in Basilicata ci dovrebbe essere un tempo migliore. Possibili rischi idrogeologici e trombe d'aria su Calabria e Puglia. Così come in Sicilia. Mannaggia, pure in Calabria e Puglia le trombe d'aria. Oltre che dalla Sicilia. Quindi rovesci anche in Sardegna, in particolare nella zona occidentale dell'isola. Valori massimi per le temperature attesi tra i 13 gradi a Potenza, i 16 a Palermo, i 17 a Napoli e i 19 a Bari. Quindi facciamo attenzione e portiamoci l'ombrello. Io vi volevo leggere una notizia che riguarda l'antitrust. Ma a trovarla ora, questa notizia. Perché? L'avevo messa da parte e non la trovo più. Ce ne sono tante. E che cosa vi devo dire? Se la regia mi aiuta, mentre la guardiamo, ah, ecco in regia, quanto siete bravi. E ce l'ho la notizia. Eh? Sì, lo so, ma è più bella qui. La leggo con le amiche e le amici a casa. Si vede così bene sul teleschermo. Antitrust, quasi 600 mila cittadini risarciti. Il bilancio dell'attività dell'antitrust degli ultimi due anni e mezzo da gennaio 2019 a luglio 2021 parla da solo. Questo è un contenuto di quanto scritto da altro consumo. 580 mila cittadini risarciti dalle aziende coinvolte nei suoi procedimenti per un totale di 34 milioni di euro. Questi soldi derivano dagli impegni presi dalle aziende finite sotto la lente dell'autorità. Il presidente Roberto Rustichelli, alla presentazione della relazione sull'attività, ha spiegato che l'accettazione volontaria del risarcimento, con misure risarcitorie, o compensative a favore dei consumatori colpiti da condotte commerciali scorrette, ha riguardato oltre il 42% dei 66 provvedimenti di impegni. Il sistema degli impegni, secondo il garante, è più efficace delle molte perché promuove un modello di comportamento virtuoso da parte delle imprese che migliora la loro reputazione sul mercato e il rapporto con i consumatori. Le multe però non sono mancate. 627 milioni di euro dal gennaio 2020 al 31 luglio 2021. Alto consumo in prima linea nella segnalazione all'antitrust di pratiche scorrette. Basti pensare a Previ Medical e Intesa San Paolo RBM, multati per un totale di 6 milioni di euro. Ed è ancora aperta nel momento in cui scriviamo, inizio ottobre, quella su Bancomat S.P.A., che ha annunciato regole di pagamento diverse e più gravose per i consumatori, per i prelievi da contante allo sportello automatico. Ebbene, se non mi è sfuggito nulla di quanto avevamo messo da parte per voi, direi che possiamo salutarci, concludere questo spazio. Vi ringrazio di aver seguito anche in questo mercoledì 24 novembre, liberamente parliamone e continuate a seguire la nostra programmazione e magari anche quando questo programma lo vedrete indifferita o anche adesso, riflettendo su quanto abbiamo detto in questo contenitore odierno, potrete utilizzare il 351-931-9265 o telemaiche.it per inviare i vostri filmati, le vostre immagini, i vostri commenti. E domani ci auguriamo di poter ospitare all'interno di Liberamente, parliamone, Leonardo, perché come vi ho detto prima, il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E allora, con buona pace di Michele Ansaldi, a noi interessa poco cosa faranno altri, interesserà invece, spero anche a tutti voi, sapere perché Leonardo ha inteso attivare quello che ha fatto, qual è la sua finalità e che cosa ci propone per il prossimo dicembre, che è oramai alle porte. In questo caso dovremo dare il nostro sostegno e quando si parla di sostegno non è solamente quello economico o non è magari quello economico, ma soprattutto il partecipare a queste iniziative, perché se c'è chi è sensibile e ha magari nel suo tempo libero il dedicarlo a combattere la violenza contro le donne, è necessario che tutti noi possiamo dargli sostegno, un supporto, partecipare, far sentire a coloro i quali si spendono, in questo caso in associazioni, in attività che vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica su questa che possiamo definire senz'altro, tra virgolette, una tragedia per quello che riguarda l'Italia, perché ogni volta che c'è una violenza di questo genere, come tutte le altre, ma noi parliamo di questa, nel caso specifico, è un fallimento di tutti noi e quantomeno quindi dobbiamo sentirci non responsabili o corresponsabili, ma sentirci in dovere di far sentire a chi si spende per farci riflettere su queste cose, per difendere le donne che si trovano in uno stato di difficoltà, che noi ci siamo, che noi li ringraziamo per quello che stanno facendo e vorranno continuare a fare, perché è più semplice fare una passeggiata in piazza, è più semplice giocare a carte, è più semplice andare al circolino, divertirsi, dare spazio e tempo alla propria famiglia, c'è chi ruba un po' da tutto questo per dedicarsi, in questo caso specifico, alla giornata contro la violenza sulle donne. Grazie a voi tutti di averci seguito.